Ciao bello, io sono TheGrette e oggi siamo alla prima reaction di questo canale in cui andremo a vedere una bambina che sbaglia ogni volta che riesce, che cerca di cantare un pezzo di canzone vi lascio al video e niente, bello ecco qua ragazzi, stai iniziando con calma, devi controllarti, bravo, allora tagliate gli occhiali, bravo sta cantando benissimo, canta benissimo, sta cantando benissimo con calma, bravo, così con calma, ok bravo, così bravo, bravo, bravo bravo, bravo devi controllarti ciao io mi ci rifiuto, basta è possibile